Presentati oggi in pompa magna i nuovi autobus che entreranno a far parte del parco mezzi dedicato al trasporto pubblico locale della città di Teramo. Cinque pullman acquistati dal comune grazie a un bando europeo e che saranno messi a disposizione della Baltur, l'azienda che ha la gestione del trasporto pubblico locale. Costo dei mezzi oltre un milione e mezzo di euro, ma che rappresentano solo il primo step per una riqualificazione più ampia dal punto di vista della mobilità cittadina. Sì, è un progetto europeo che abbiamo raccolto, che era nel cassetto per il quale addirittura stavamo perdendo i fondi. Lo abbiamo subito riattivato. È un progetto di 5 milioni circa che riguarda questo, il primo passo, cinque mezzi nuovissimi, euro 6, per modernare il parco mezzi cittadino e poi assicurare tanti altri interventi per una nuova mobilità per la città di Teramo, ecologica, sostenibile e corretta anche sotto l'aspetto ambientale. Arriveranno anche dei bus elettrici, arriveranno le colonie di ricarica, arriveranno nuove fermate degli autobus intelligenti e autobus intelligenti che ti diranno quando arrivano, stazioni di rilevamento dei gas di scarico, bici elettriche da noleggiare per girare per la città, piste ciclabili e tante altre cose per cambiare completamente la mobilità cittadina per Teramo. Una mobilità che cambia? Secondo lei le tempistiche per raggiungere gli altri obiettivi? Le tempistiche siamo già in ritardo. Dobbiamo riuscirci, io dico entro un anno, un anno e mezzo sicuramente. Speriamo di riuscirci con i tempi che corrono e con il Covid di mezzo. Mezzi che ovviamente entreranno in funzione da subito? Sì, abbiamo subito il comodato con la Baltur, che è l'ente gestore per il servizio di cittadino di trasporto. Io credo che appena possibile sostituiranno i vecchi mezzi obsoleti che da anni circolano per le nostre città. È un'evoluzione della tecnologia che su questi mezzi si esprime al meglio perché sono dotati di tutta una serie di innovazioni, di elettronica, di informatica che ci consente anche a distanza di monitorare i servizi, di contare i passeggeri, tutta una serie di operazioni che sono utili per una giusta e corretta programmazione del servizio.